Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Warner Bros. Discovery presenta i nuovi palinsesti. Amadeus debutta con frecciate alla Rai e a De Martino. Oggi all'Università Cattolica di Milano il colosso americano ha svelato le novità in arrivo. Il protagonista assoluto è stato Amadeus, che il 22 settembre debutterà con il game show Chissà Chi e con l'anti Sanremo Suzuki Music Party. Il conduttore ha lanciato frecciate ai suoi ex colleghi Rai e al rivale De Martino, sottolineando la svolta generalista della rete. Accanto a Fazio e Crozza arriva anche Belen Rodriguez, che debutterà su Real Time in autunno e sul 9 nel 2025. A fine settembre ci sarà una serata evento dedicata a Renato Zero. Amadeus ha espresso soddisfazione per la nuova sfida e ha rivelato di aver ricevuto proposte economiche simili dalla Rai, ma ha scelto di cambiare per motivi affettivi. Ha criticato la mancanza di riconoscimento da parte della Rai e ha sottolineato l'importanza dei rapporti umani nel lavoro. Ha anche lanciato una stoccata a De Martino, sottolineando che non ha mai guardato il suo programma dopo averlo lasciato. Discovery presenterà anche nuovi programmi con Fabio Fazio, Maurizio Crozza e Belen Rodriguez. Si prevedono anche documentari politici e eventi speciali, come Renato Zero, Autoritratto. La rete si prepara a sfidare Rai e Mediaset con una programmazione variegata e di qualità. La competizione sarà serrata, ma Warner Bros. Discovery sembra pronta a lottare per...